Ci siamo, ci siamo ragazzi Ok, dai Comiscia Comincia la giornata Allora, vamonos A veders Allora, buon brazo a tutti ragazzi Siamo pronti? Siamo pronti? Dai che oggi giochiamo insieme Come vi avevo promesso ieri Allora, c'erano due vincitori Però me sa che uno non ha capito bene Che cosa doveva partecipare Cioè ha vinto ma me sa che non ha capito E non ci sarà E vabbè Quindi nulla, praticamente C'è sta Maurizio Invece che, vabbè Maurizio lo conosciamo Quindi ha vinto Verrà a giocare Anche se non lo vedo ancora online Bella Zamo Allora, al momento Stavo vedendo un attimo chi è online Perché non mi carica tutti gli amici online Bel problema Però forse si dovrebbe risolvere Però andò, però andò Cosa si vince l'uomo? Si vince un po' dei biscotti con i baffi Le può interessare Cioè Emanuele, bella tutto Buongiorno Buongiorno Jonas Buongiorno a tutti ragazzi Come andiamo? Allora Vi dico già adesso Chi vuole entrare? Praticamente Ci stanno Hanno due posti liberi Ci sono due posti liberi Ma quindi M13 in meta? Si però Non è secondo me Più forte il grau Io sto usando il grau Ci si hanno migliorato M13 Kilo grau Qualc'altra arma Tipo il Krieg Se robe qua Io preferisco l'M13 Ricordi mi hai incontrato ieri in partita Come ti chiami? Qual è il tuo ID? Perché ho incontrato Diciamo Vari ragazzi italiani Bella Lolita Bella Torian Lasciami un posto alle 15 Eeeh Va bene Va bene Dai va bene Buongiorno Matteo Buongiorno Allora Chi c'è adesso? Non c'è nessuno? Mi inizio a fare una partitina? Allora Andiamo in game Nel frattempo Mi faccio un riscaldamento Dai Ah ok ok Sì sì Adesso mi ricordo Alfa creativo Mi ricordo Buon salve Buon salve Buona sega Ci sono io Vieni Lolita Vieni Vieni Aspetta che devo abbassare Prova Prova Buona sega Bella Salvatore Sì ci sono due posti liberi I primi che vogliono entrare Ecco Lolita Ecco Lolita Allora entra Lolita Ci sono due posti liberi Uno mi serve per Maurizio Che aveva vinto l'estrazione Che lo sto aspettando Bella S Non so però che fine ha fatto Zio Maurizio Prenda Prenda Lolita Prenda mi sente? Prenda Capisco perché Sa 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 Fa un po' di Prondo Prondo Mi sente? Sì sì La sento La sento Aspetta che Prova Prova Sa 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 Ha vinto Un bacco di biscotti Tra mezz'ora Penso di sì Francesco Sì ci dovrebbe essere posto Bella Michael Maurizio non c'è Vieni Alfa Solo che non ti tengo tra gli amici Mi devi aggiungere Un desclamativo ID E mi aggiungi E vedi qual è il mio ID Bella Luca Allora mi accetti la richiesta Me l'hai inviata già? Dove me l'hai inviata? Che non la trovo Eh devo cancellare qualcuno Mi sa 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 Perché io sento Io cancellerei Capoccione No Devo cancellare qualcuno Eccolo qua Ok ti invito Allora vediamo Mo ti invito Ciao Mattè Vai Ti ho invitato Ciao a tutti i miei fans Ciao raga Uè Ciao Lulita Ma che è la scoteca? Io sono in spiaggia A 3 e venivo a giocare Va bene Sì c'è La prossima La prossima Tanto non è la Non è l'ultima volta Che la facciamo Salve Buona sega Vai si parte Allora adesso vi faccio vedere Parto con il Grau E E l'Owen Come ieri C'è la live di ieri Che ho tagliato proprio la parte In cui inizio a giocare Col Grau e l'Owen E mi sparo tipo 19 kill con la win Il 2S e il lucerto La manca su GTA Eh lo so Però È diventato troppo Un gioco Troppo Come posso dire Tossico ecco Pronto? Pronto? Ma quindi alla fine Quali sono le arm Che hanno potenziato? Kilo M13 Anche il Grau Tornato forte Il Krieg L'hanno ripotenziato L'NZ l'hanno depotenziato Sì l'hanno depotenziato L'hanno depotenziato L'hanno depotenziato Daddigno Ola Daddigno No vabbè assurdo Ola Daddigno Come sta? Stato bene? Attiva l'unico Daddigno Daddigno Oh Che è successo? L'audio ok No no c'era La mia cuffia Che faceva poterla L'hanno depotenziato amiche Uzi fai buchi a terra Non lo so Non credo Lino grazie del follow Benvenuto Sei sicuro? Che l'Uzi fai buchi a terra Poi faccio dire io Cosa fai buchi a terra Fra l'Owen fai buchi Buongiorno GDT Ma che è GDT Oh ma che è Bella Simone Buongiorno Pronto Bisogna mettere i manifesti In giro per la città Poi scopato Se è schiandato con l'elicottero E' impazzito Allora sono Sono tutti mudi Chi è sono tutti mudi? Ma loro o ieri? Che cosa? Abbiamo l'italiano Livossi Vabbè adesso Iniziamo a giocare seriamente Dai Niente Da digno Che dopo non si blocca Posso andare a fare due preghiere Certo 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 E' normale Sono libero Oggi sono libero Buongiolo Filippo Buongiolo Ormai più ti è rimasto Si ricorda Ah E' tutta una strategia Per farmi ricordate te A posto A posto Vabbè l'ho inventato Di tutti i colori Madonna mia Un grande saluto Da A Cireale Sicilia Un salutore Un salutore Direttamente dalla Sicilia Anche se non conosco bene Il posto A Cireale Dov'è? Dov'è? Vicino Vicino Palermo Tipo dov'è? In Dulac Eh? No Allora andiamo al Gulag Va Eh si Ah spera La finestra Sono sceso io Attenzione perché Già subito L'uavvia Palla Manetta Tiro E gente C'è gente Cattiva Daldino Si è andato Ha detto che ero troppo bello Non ho voluto guardare Si è lanciato Ed è morto Mamma Non scelta Oh Vorrei capire Ma lei non vuole andare a te Dilla tu Ci siamo? Vabbè Beh beh One Two Ah Vicino Calzani Ok Daldino Comunque Proprio Un dadino Daldino Per favore Stati con Sottro Da Fest Sord A tre Attaccati Mamma mia Manca avessero visto Martina Sono Refumo Sono arrivati così E' Impazzito L'unità me li fa almeno Cinque kill Vediamo 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 che si dice Dove Di socio Alfa creativo C'ha scritto PN hub Nella No Bella Per pulso Over the moon Nananana Mi serve il lancio No c'è gente qua C'è gente sul tetto Dovunque Zio Un culo Aiuto Atterra No Mi arriva un altro Aiuto Tutte parole Possibili Immaginabili Eh sì Io mi sto divertendo Di qua No no Minga ancora in tre Ma perché giocano In prima Non ti sentivo Niente Oh da Digno Sei uscito Affanbanigno No andate a terra Siete gli ultimi E' finita la partita E' finita la partita E' finita la partita Signori Bello Bello Iniziato bene Che bomba lo studio Eh Peccato che non è vero Lo studio Non è vero Ma che ha scritto quello Perché che è successo Buongiorno Buongiorno Felice Oh che è successo in chat Che ero distratto C'è Felix oggi Dai Mi serve un posto per Maurizio Ma non so che fine Abbiamo fatto sincero Ah eccolo Eccolo E' arrivato E' arrivato il vincitore Delle estrazioni Allora Adesso entra Che l'ho invitato Si è collegato un po' in ritardo Adesso Come minimo Deve regalare Nasub Deve regalare Dove Adesso che l'ho invitato Vediamo se entra Che in teoria Sarebbe dovuto entrare 14 minuti fa Ma che è successo zio Comunque bella Riccardo Buon pomeriggio a tutti Buon pranzo Ah aspetta Ah ok Ma l'avete mandato in privato Ok No No Mi dissocio Mi dissocio Non c'è ancora Maurizio Forse arriva dopo Va bene dai Va bene Ne partiamo No Mi dissocio Ma l'avete silenziato O l'avete bannato Bella Angelo Buongiorno 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 L'avete bannato O l'avete silenziato Regà Partito Partito il primo Ban Dai Vra Non è un complimento Zio Ti rendi conto Di quello che hai scritto Bro C'è So cose che si dicono Zio Zio Un complimento Poi la La fidanzata Del 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 mio moderatore Zio Anzi del vicepresidente Rizio Non mi sa Parla Anzi io chiederei Scusa Zio Vabbè Avete cancellato Solo i commenti Vabbè A posto Oh non trovo ancora Una partita Uè Maurizio Ah ci sei Maurizio Ti stavo invitando Hai fatto ritardo Di 15 minuti Adesso Come minimo Devi regalare Una sub Te lo dico Ti sto aspettando Da 15 minuti Vai T'ho invitato Ti sto aspettando Da 15 minuti Ehi Ciao lupo Ehi Come minimo 20 euro E di donazione Che hai fatto tardi Capito Ho messo Ho messo La sveglia Per giocare Quindi La notte E ti sei svegliato Mo Immagino Faccio Allora Bella Cirillo Rubo Ma oggi si può giocare insieme Sì Più tardi Sì Allora Mo ci facciamo Un po' di partite Poi si liberano i posti E facciamo RFT Fai altre due Due partite Va bene Giuseppe Buongiorno Roberta Ho letto il messaggio Ci sei dopo Verso le 14 Tanto io fino alle 16 Dovrei essere qua Quindi c'è mezza 16 Sono qua Quindi Praticamente Dopo ci sta il posto Alle 14 Te conservo il posto Allora Beh Uh è tornato Purugo Buongiorno Comunque Si sentiva Lecco Perché Maurizio Maurizio Che non diventi Un vizio Senta ma lei mi deve Spiegare Come ha fatto Di nuovo A vincere L'estrazione Pure Ma lei Che culo ha Mi scusi Maurizio Maurizio Ma 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 Maurizio No ci sono Ci sono Che culo ha Eh boh Eh troppo Troppo culo Troppo Troppo culo Maurizio Signori Troppo Bene Alex E ora dello studio Rubo Eh Chi me li dà 20-30 mila euro E ora dello studio Pronto Sempre di soldi Sì Chi sponsorizza Sti soldi Mica o studio Costa 1.000-2.000 euro Zì O studio Costa 20-30 40.000 euro Ed è poco In realtà Costa anche di più Bella Gabriele Au Parola d'amico Eh Diggielo tu Daniele Diggielo tu Ma veramente Così grosso Ma veramente Dai esagerato Il primo Che giro la ruota Esce lui Esce sempre lui Qualsiasi cosa Esce lui Oh come minimo Da dette Eccolo là Ezi Per il ritardo Eccolo là Eh Per il ritardo Ridere Crepapelle 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 Oh lo Grazie per le 200 Stelle Allora ti consiglierei Di fare sempre Più ritardo Si parte signori si parte 26-24 secondi 22 Andiamo di andare Si spera a vincere questa partita O almeno un secondo terzo posto Direi Lulita qua mi chiedevano di Mi chiedeva il vicepresidente Riusciamo a fare 5 kill Lulita? Non sento più Lulita Lulita? Lulita? Sei montata Lulita? Lulita! Ti sviluppo? Ah ci sei Allora Wow Se sviluppo abbiamo da 674 giorni Eh scusa perché non c'è ancora il Dovrebbe avere il budget che mi esegue da più di un anno Non ce l'ha Come ce l'ha Cirillo? Strano Non gli è uscito? Allora scendiamo Andiamo qua sotto come al solito C'è una Maverick Oh Beh esagerato Zio è entrato qua dentro E' iniziato a spaccare tutti e tutto No Scappate Scappate che sono forti Chiazzio Sono arrivato là Boom 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 Schiaffia tutti Panico Macello Buongiorno Ma nelle docce giù ho trovato una carta rossa Sì Ti serve per aprire i bunger Il codice Non so se serve un codice Io sinceramente Non li sto facendo Non so se serve anche il codice Però in teoria con la testa Sveva aprire Perché hai buttato la puzzona qua sopra? No E c'è ancora gente Zio A casa zio A me i problemi Siamo a problemi Oddio Morto Maverick E' morto mio nonno Il dono non so al lavoro Come ti ho detto ieri Anzi con lo stesso Dai dai Buon lavoro Buon lavoro Ci deve stan tizio qua sotto Regà Oh lì Shish E' andato via questo Una terra qua Uno è entrato Attenzione bro Ma Ma stanno tutte le due Stanno qua Ma ma Con l'elicottero Ma non è giuca Oh Questa con l'elicottero Gioca L'hai Il 202 Nel 2022 Con l'elicottero E' il ventilatore E' l'elicottero Nel 2022 Non si usa Andiamo col cararmato Zio Ma quando lo faceva il caraglio Allora scrivetemi stesso voi in chat Piano piano chi c'è poi per entrare a giocare Ogni due tre Massimo quattro partite Famo cambio Ma da questi che si stanno a sparco a sopra Da qua non riesco a stare libero Dove siete Devo io Oh my god The other side Pronto Fatto fatto Eh questo era parecchio Scassambrella Questo qua eh Fermi teneva Grazie Prego Pronto Pronto Si spara Oh Mi ha aiuto Sono impazziti Dovremmo prendere i longus Eh no E' quello dalla torre Da priso Mi deve tirare giù Stiamo avviando Mi ce lo voglio credo E' state vive Lo stanno arrestando Goto 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 Sì mi ha dato la kill Goto come un riccio Spara spara Alfa Spara subito Eh lancio sopra Prisano Guarda Alizio Non si può Poggiare No vabbè Ma schifo l'arma Ma come si Eh no Eh no ma è stato pure depotenziato Ho aumentato il rinculo Dai Mawen Mi dicono Dalla JAT Vai Mawen Mi dice Matteo Attento la lulita Perché Perché No Ti devi ringraziare Che non c'ho i colpi Dall'assalto Non li posso sprecare Così bro Attento la lulita Ecco Lulita a terra Dov'è tramonte Quando serve Ma che ci fanno Oh ci sono scontrati No peccato Minga se usciva sta giocata Che gli entrava il coltello Potevo anche spegnere Ah perché lulita Cerca i sordi Su warzone Ma poi se li può Trasferire Capito che ha detto Matteo Ello il grau Sì guarda lì Che ha fatto Tritato quello Signori Trang Quest'altro Oh Sticcato L'elicotteri Alpha 2 Guardalo La seconda volta Cacchio Bello Oh no Ma perché Quando mi devo sparare Con dei tizi Ci stanno pure gli altri Che mi sparano Eh l'OTS Che spara proiettili Bruciati Che roba era Non si può giocare così Non si può giocare così È una vergogna È una vergogna È da mezz'ora Che state lì Dove è stata Che è stata Qua in gestaci Salve Hanno depotenziato qualche arma Sì Parecchie Hanno depotenziato L'NZ L'NZ Il Blixen Marco E il bar E poi anche Non mi ricordo che Ah l'STG pure Sì Hanno depotenziato L'AMAX L'M13 Anche il Kilo Oh I am the only The last one I am the last one Wow ma this is unbelievable This is a bazooka Oh my god I am here I don't give you nothing I have a gun Bebs Buongiorno Piro bot Sei proprio un bot Piro Sei proprio un bot Zio I need a place I'm pushing bro I'm pushing Because I have my guns here No Only shit Dai 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 Sei girato Zio povero Ma perché ho cambiato arma Eh niente Cogno Uii Che sta succedendo Assurdo Assurdo Vediamo Un alfa creativo Pronto Un alfa creativo Selvaggio Che si accinge Vai la Esther Come stai Amore mio È caduto dalla spalla Allora Eeeh Oddio Allora Io provo La giocata pazza Ecco qua Uuuu Niente Questi sono da Vabbè Qua mi è partita la capoccia Da tutta la partita Che stanno lì Vabbè Niente Niente No Non mi posso Non ancora Maven a terra Maven a terra Attenzione Morto Maven Va bene Va bene Lulita Va bene Va bene Lulita Se c'è Piro Bot Viene Piro Dai Devito Piro Il Nox Bot Era per lupo Ma è un bot Non l'ha messo Non so come Se fa Il comando Zio Cioè ho capito Nox Bot L'ho collegato Non so come si fa Il comando Alfa creativo Minchia ha preso Un biscottone Esagerato Ha preso Il biscottone Va bene Dai Allora Lulita Non ho capito Dicevi che questa Dopo Dopo un'altra Ancora O adesso Lasciavi il posto Non la sento Io Lulita Va bene Vai Grande Grazie mille Perché Boh Io sono entrato Lì Ma non ci ho capito Nulla Sincero Non ci ho capito Una mazza Sì buon game A tutti Vai vai Lulita Ma stai andando? Non ho capito È andata Spend Che ha fatto? Però andò? Ha detto che staccava Non lo so Ah staccato Ciao lupo Ciao ciao Ah stai andando Ciao lulita Ci faccio qualche Altra partita Perciò Niente Andata Lulita Pirobot Ci sei Non ci sta Pirobot Ti vai a mangiare Immagino No io non ti vedo Va bene Vai vai Si riparte Si riparte subito Con un'altra partita Nel chilling Io sto usando il grau Adesso Io sto usando il grau Mau Mau Vennil Terribile Ti hanno soprannominato Eh Sì Chi è? Eh sì Eh no lo so Francesco Ah quello dell'altra volta Quello dell'altra volta Il compleanno Eh dici quello dell'altra volta C'è proprio Ah Fran G non ti conosce Cioè Che vai a trovare Non ti conosce Allora Non è molto intuitivo Effettivamente Bella Bruno Buonasera L'uomo Stasera che combina lei Io vado a Gnagna No non è vero Sto qua Sto qua Penso che sto qua Penso che sto qua Eh Non vede i commenti Non vede i commenti Signori Come non vede i commenti No Ma che sta dicendo Lei è impazzito Signori hanno hackerato Mauven Chi è questo che fa casino Si attiva l'audio di questo Allora No no ci conosciamo da 15 anni Eh non mi ha detto Quello che lì era Ah sta tutto Ah ok È fuso È proprio lui così normale Ho capito È fra la 23 Quello che abbiamo Che No no Io lo so No no Io lo so Il problema è che non so se lei lo sa Si 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 L'ho letto Te l'ho letto No Niente ho beccato un palo Allora Come on bro Ve l'ho detto ieri Commenta 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 tutto Oh dobbiamo arrivare a 3000 commenti Lui c'ha più culo di me lui Ah si Però non ha commentato Così fortunata Eh non so No ma io gliel'ho mandato Di commentare Eh non ha commentato Sarà stato impegnato Sono sicuro Non ho mai conosciuto La persona più fortunata di lui Addirittura Ficca se lei è stato Se lei è stato il primo Di uscire subito Che ha vinto subito Quando è quel grado Quando è bello Addirittura Allora insomma Voi mettetevi d'accordo Tutte e due Visto siete più fortunati Datemi due numeri Che io vingo Alterno all'8 E me ne vado Allora Siete nella galleria del vendo Con questo microfono Se volete giocare con quel pdf Di lupo Scrivetelo in chat E aggiungetelo Grazie mille per il razzo Col crepapelle Grazie mille Grazie mille per le 100 stelle Eh grau Ragazzi se vi vedete La live di ieri Io ho messo proprio L'inizio della partita In cui faccio 19 kill con la vittoria Col grau Dove andiamo? Però non riesco a prendere il lancio E andiamo Non c'è la miseria Non riusciamo a fare Quello che voglio io Col grau In queste partite Adesso C'è figa Mamma mia zio E' fuori uno Ma che posto è Se ci sei adesso Perché tu hai detto Che volete entrare a fare due partite Eh attenzione alfa Minti è piena di gente Io ho 20 colpi e basta Mamma mia Avrei preso Un scottone No da dietro Mante vergogne Aiuto qua Aiuto qua No alfa scappa via Che sei l'ultimo Ah e invece Andiamo via Andiamo via No Scappa Ma questo dov'era? Scappa Fuggita Sciocchi Non ci voglio credere Guardala come ha maghi il lato Ah non ti sta partendo il gioco Un cacchio fra Allora Te l'ho consigliato Io gli ho il grau Anche se lo uso Col minimo per tre Ma va a cacciare gente ovunque Però Io preferisco senza È vero è vero Ma hai consigliato tu Accendi 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 i cheat Ma maverick Sopera Ma lo soldato nemico in arrivo GG for this I need Very I need Very nice Si frizza Sai come devo risolvere Non mi è mai capitato Che se non si frizza Mi piace un wabi No Ci pushano Ci pushano Eh vaffanculo Ma se sparano in più Niente I'm the last one bro Sai che arriveranno appassionatamente secondo me Non dimmi in via Divino Eh zio povero Ma perché devono fare queste cose Non E' uno qua sopra Fatemi un attimo che ragiono Oh non c'è il carrello qui Non ragiono più Non ragiono più Le vado dal freezer Rimane la schermata bloccata Allora ho testato il computer Oppure Oppure Devi provare a installare il gioco No ma non credo Che sia una roba Signori ho fatto il lancio Ma sono Ma fenomenale Buongiorno Roman Buongiorno No ragazzi Però non andate a morire tutti così Zio Pena Dai Venite qua Prendete il lancio Qua nuova Dai dai Che c'è Che c'è patata Signori Che c'è Patata Che è patata Nello Dai dai Prendiamo tutti Cosa successe Quando non riesce a fare una cosa Sbot No Mi so Ma questa era bruttissima E quando è bello Il grau Bello e grosso E grau No dai Che questi da dove sono usciti Eh mi è arrivato un altro team Mentre sparava un tizio Dentro la stanza Niente niente Sempre così Devo andare a finire Sempre così Devo andare a finire Che è successo Disinstalla e reinstalla Dopo gli aggiornamenti Può succedere Prova a disinstallare tutto Cancellati anche tu E poi ti reinstalli Allora Sì 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 Un posto ci deve stare Ci deve stare C'è un posto Alex Se vuoi entrare C'è un posto Ahia Siamo già a tre Ahia Solo tre Oh sto arrivando C'è tutto trenta Oha siamo arrivati C'è in tre team Mo' ho visto Assurdo fra Si sono spaccati Fra sta lobby Dimmi a mio locale A mio promoter Buongiorno Carmine Vai a staccare Vai a staccare Lo scalda bagno E poi ripro Vieni al mio locale Al mio promoter Ho la clock nera Eh c'è qua No Voglio quel grau Guarda Andiamo andiamo Saliamo saliamo Dai saliamo Saliamo Allora Se mi dai 40 euro Te lo do Te lo porto fino a casa Che palle Non ci ho riuscito a metterla a terra Qualcuno ha piastre? Sì Eh È la discutita Cosa di piazza Te vanno Così Nella Di corsa Uh 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 Proprio incazzati Bra Ah ma siamo rimasti Solo noi contro di loro Zio È finita la partita Poi Sotto sotto Ragazzi No 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 Sotto Sotto Sopra Sotto Sopra Ah È finita la partita Sì Ragazzi Sì Vabbè No Mi dissolvo Mi dissolvo Peccato Peccato Secondo voi Sono arrivati L'Owen come lupo L'Owen come lupo L'Owen come lupo Non dovrebbe essere lupo Come l'Owen L'Owen come lupo Lui lupo è buono Fra è buono Da mangiare Da mangiare A tutte le ore Allora vediamo se trovo Alex Comunque Punto esclamativo Owen Ti esce il set in chat È forte Fra è forte Comunque Io lo sto usando Mi trovo molto bene Faccia a faccia Allora Dov'è Alex Che non lo vedo Non mi ricordo Benissimo L'ID Ha detto che sei su Vanguard Io ma qua non ti vedo Devi Devi entrare su Warzone Ma non so dov'è Ah Eccolo qua Ok Devo riaggiornare la lista Amici E ti invito Alex Allora Vabbè Bebs La sta prendendo Con S Si sta divertendo Vediamo se ti vedo Adesso Dammi il secondino Non ti fa ancora invitare Ha attivato il crossplay Giusto? Grau adesso te lo faccio vedere Perché non Non ha fatto ancora Il set Nei comandi Vai invitato Allora Poi armi Vediamo un pochettino Pronto? Pronto Buona Buongiorno Buongiorno E questo è Grau Buona assiega No c'è pure Laurend No No Laurend 9 Prego No No Laurend No Ah Deve uscire la canzone Di E' molto bello Eh Sì Deve uscire la canzone Questo è il Grau Comunque Molto semplice Easy Vai Partiamo signori Si vola Aspettate che devo mandare Sto messaggio Sì sì L'ho già visto Fra Quello Ha fatto La canzone Con Raffaello Vazzla Come si chiama lui Che è uno che Qua delle zone mie Delle parti mie Era amico Di alcuni miei amici Allora Eeeh Wow 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 Attenzione Perché partono le stelle Subito Alla faccia di Di Stefano D'Alessandro Che è un pezzo di fango Eeeh Grazie mille Fratelli Per le 100 stelle Grazie l'uomo Di nulla Daniele Grazie mille Per le 25 stelle Noi ci siamo carichi Siamo pronti Guardate che a me Mi mancano tre vittorie Mi mancano Tre vittorie Per fare le 800 E ancora non si riesce Vai colparti le stelle Signori Il primo Il primo Che le dona Tutte Vado a casa Sua Vado a casa Sua A mangiare Uh Torno al lavoro Ci becchiamo Torno al lavoro Ci becchiamo Stasera S bot Diglielo 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 Giovanni Grazie mille Quattro stelle Bef Subito Con le 500 Bombette Così a volo Paccate Vogliamo se tre win Dai le dobbiamo fare Mancano solo tre Cazzo Alle 800 Mannaggia fra Si trova sempre la partita Sta mettendo un po' Oggi Dopo che ha fatto l'aggiornamento Stanno un po' impazzendo I server Bomba comunque di Bef Con le 500 Grazie mille Anca Daniele Per le altre 25 Torno a lavorare Ci becchiamo stasera S bot S bot Hai visto Glielo ha detto pure Incredibile Non ti ha scammato Stavolta Poi Maurizio Che non diventi un vizio Ancora Mauven Con le 100 stelle Si aggiunge subito al party E invazio tutto Lupo ti Virei anche io Delle stelle Ma sono un povero E Allora Mi pare che Non so Se adesso c'è ancora Però all'epoca Facebook aveva regalato 100 stelle gratuite Da poter donare Quindi se te capita Ogni tanto Controlla Se ce n'hai 100 Gratuite Che non capi Che stanno là Puoi dare quelle Anche Che che te frega Sono sempre Capito pure Se non le pagate Se te capitano Che te le regalano Le puoi regalare A tua volta E Poi non devo preoccupare Basta che metti Il like alla live Roman Allora Vladivino Ancora 45 stelle Oh si è bagato tutto Zio è entrato Alex Ora trova più le partite Che cosa è successo Aspetta Oh No Che cavolo Oh ci sta Activision Ci sta Boicottando Io ve lo dico Buongiorno Antonino Leotta Ah ok Quelle le avevi già inviate Ogni tanto capita Che Facebook Magari regala Un po' di 100 stelle Dai poche stelle Si finisce il party Bella Teddy Buongiorno Rubo non va A me non mi fa donare Io devo vedere un attimo Il video tuo Perché Me l'ho dimenticato È vero Tu c'è ancora quel problema Fammi vedere Se trovo il messaggio Dove me l'avevi mandato Ah tu c'hai 49 stelle Carmine Eh quando le mandi Praticamente Devi mandare In Devi fare Personalizza Inserisci il numero di stelle 49 Perché non ti inserisci Quelle 49 Invece di 49 Provo 40 A mettere 40 Perché lui praticamente Ti seleziona le 50 Però tu ne hai 49 Quindi non te le fanno mandare Se no dovresti provare A mandare 10 alla volta Tipo metti 10 E provi a mandare le 10 Perché Carmine Ha tipo 49 stelle bloccate Però Dovresti fare Su personalizza Tipo Ah Queen chat Fai Punto esclamativo 49 Non ci credo Da quando Ma giura Carmine È riuscito finalmente A donarle Oh abbiamo Oh abbiamo Abbiamo risolto Non ci credo Abbiamo risolto Ma io non la sapevo Sta cosa Fra Se metti punto esclamativo Il numero Ti caccia le stelle Direttamente Senza che le vai a fare Ma è assurda Sta roba Ma da quando Grazie mille Per le 49 stelle Istruzioni poco chiare Sono finito In carcere Aspetta che vado A prendere le stelle Istruzioni poco chiare Sono andato in banca Mi hanno arrestato Oh guarda lì Punto esclamativo 25 E anche Guarda sei di Napoli Napoli Sì sì Napoli Napoli Faccio lo cavolo Stanno i francesi Come Mamma mia Come i pazzi Sta partita Mamma mia Lo sapevo neanche io Daniele Grazie per gli altri 25 Punto esclamativo 0 Guarda esso è proprio una Proprio una vergoglia Eh se non le hai Vuol dire che non ci stanno più Quelle gratis Poi lo fanno ogni tot Di tempo Ogni tanto le mettono Un esclamativo 49 Eh no Non le ha mandate Siete che non ce l'hai Antonino Solo se le avete Il regalo nell'account O se le avete comprate Le mando ovviamente No come non c'è completato Un esclamativo Vedi 5 Mauven Re dei bot Scherzo No Oggi ti scomunicano Fammi sapere Dai Faccio una Farmando una letterina Andiamo bio Andiamo bio Dai andiamo bio Stavolta No è bio Qualcuno si è tirato via Mauven Attenzione Alex Fuori tutti Scomunicate S Allora ho fatto un avvio Non c'è nessuno qua Siamo liberi 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 Anche tu Nell'aria Possiamo fare il lancio Datemi i soldi Io sto inseguendo alfa Grazie Io ho rubato anche le piastre Io ho rubato Dammi qua Vieni qua Dammi i soldi Ma l'ho tirato Le piastre Stanno qua Tutto sto casino Alla fine stavamo Le piastre qua a terra Correte Correte Vai si vola Mentre non le manda Allora non ce l'hai Ti aspetto lupo Dai dai Allora Dopo di questa Entri Tu Peppo Al posto Di Alfa Dai Facciamo un po' di cambi Andiamo a divincere questi Saliamo sopra prison C'ho C'ho l'UAV Chi tira l'UAV No che è stato L'Alfa Ma non c'era nessuno Vai ho tirato l'UAV Così vediamo Eh son due infatti Gli amici sono a chemical E noi ammazziamo gli amici Fra Come ben detta Amico fatto L'altro lo venga giù Amico Sì Lo venga qua sotto Arriva arriva Oh c'era uno sotto Bravo E altri due erano avvio Sì sì Tim A terra uno Che mi spara Ah spara dal tetto Sul tetto Sul tetto Vai vai Puscio Puscio Corri Corri Bella torino Puscio tutto Cosa No no Tu te te mi spara a me Vai 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 che lo beccate Arrivati Ti è buttato Ti è buttato A terra No Peccato No way bro Da me sta maschera Vado subito No Ma questa partita Non è che dirà Di capo Dice Di capo Minchia Ah c'è 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 S'ha randana Tutto A mangi Le 5 de rep Ha 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 5 de rep buono ho trovato gli risordi come fadova da flulancca oggi sbagliate vabbè tiro nete qua allora attenzione facciamo un cambio scelubo bot no mi so che ho fatto un altro lancio per sbaglio mamma mia guarda lì guarda siamo in fondo si dietro il muretto mi butto eccomi 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 ero sul tetto me ne sono andato si è il grau aviere il grau squaglia rega tanta roba non a me di fronte aspetta che arrivo aspetta sono massi a è sotto 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 dato bene a mano tirati via 2 si è tornato buono fa 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 la terra vecchia maniera a terra di nuovo c'era c'era quando t'arriva così faccia a faccia lo distruggi col grado c'è qualcun altro arrivo lupo non mi sembra di non si capisce sui passi tuoi vabbè ma forse i tuoi forse libero 14 persone giorno fra garmi uso adesso sto usando il grau e l'uovo ma mia che frontale ma vaffanculo tu i the back the italian no is one shot here is one shot qua da me arriva giro mi giro farvi se no 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 vabbè l'ho fatto l'ho fatto ai due noi non ho mai sono beccato il ciclo dall'altro lato guarda che gli faccio una scivolata un saltello uno sparo giro sinistra dai non mira più ho paura come faccio a sapere che ci sono di qua chi è forte chi è quello forte ha busciato uno forte non c'ho le piastre un eccolo andato verso sono fatto però non era lui che si è rimasti contro tre sono alle scale le scale di prison da maverick sono italiani mamma mia l'ho fatto con il grau sciolto andiamo 4v1 4v1 l'ultimo sulle scale provo un coltellino provo un coltellino mondiale provo un coltellino mondiale attenzione one via one no bo 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 mappa creativa a terra si ricira ritorna lo sparo no tutti a terra vai 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 è tuo è tuo è tuo graccato occhio eh chiacchiera vai che ce la fa l'eserno eh lo so è rinato minchia che è successo no 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 sopra qua sopra no one shot non c'è credo c'è 2v1 lì è sulle scalette no peccato eh mo siete 2v2 è su te è su te è su te andate andate uniti andate uniti attento è bravino è bravino faccio le mie armi adesso buttaglielo sopra oh no no ok finita no peccato 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 fra peccato ma il mio compagno non è morto peccato 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 chi è che doveva entrare adesso che non mi ricordo ah pepuzzo pepuzzo cacchio fra ma dovevi mettere a terra ma levate sto levate sto oblixer mettete l'owen c'è la miseria ma metto l'owen no lo so vedi tu l'hai visto lì a quello là non gli hai fatto l'ho smirato io eh anche anche se è smirato però pepuzzo dove sei pepuzzo ma lei è in partita però pepuzzo peccato venga 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 non me la fa invitare non so per quale fatidico motivo non la fa invitare signor pepuzzo guardi guardi ah c'è il cross disattivato devi attivare il cross allora eh sì io là ho sbagliato che mix audio mi consiglio usare io uso vincenzo home treater uso uso home treater che armi sto usando l'opo sto usando grau e duen peccato io non dovevo morire non si vantaccia sulle scale non dovevo morire se non morivo io era vinto allora vai attiva il cross non c'è la barra delle stelle pum eccola qua siamo a 10.000 su 60.000 non la tengo tutto il tempo dai l'attivo e la disattivo zio Diego chiedo scusa se non uso internet ok l'ho invitata per pulso chiedo scusa se non uso internet mi ha abbandonato salve buonasera buonasera buon natale devo far vedere il grau per gg ma solo 6 gg di una roma eccolo qua zio salve che cospida buon pomeriggio buon natale è questo il grau ragazzi ok ho sedito un po' di urli mi sono preoccupato comunque è semplice il grau da fare silenziatore monoblocco la canna alla 26 50 colpi ho messo zio perone beh natalele buon pomeriggio natasha grazie nel follo benvenuta e dicevo cioè è easy sono 5 accessori sono facili anche da ricordare tra virgolette a mente allora questo l'abbiamo risolto sono già le 14 è passata già quasi un'ora da quando abbiamo attaccato quindi io direi dai 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 continuiamo continuiamo così facciamo fare una vittoria ci siamo andati vicino secondo posto giovele bro non c'è beh bro che fila fatto buongiorno lupo andiamo a giocare nello server americano al sud abito in brasile ci vuole per sapere abbracciò guarda vabbè dobbiamo andare a giocare a brasile ma fa una prova guarda si chieres Jonas si chieres ugar sto jugando con toda la chat ora sto jugando con todos ora si chieres venire a ugar ma è tre e mezza quattro fin quando ci sono si se può giocare se può giocare fine tre e tre e mezza quattro non so perché in realtà poi c'ho l'impegno da fare però fine tre e mezza si mi gioco con voi su da questo guarda hoppidush bus primes no ancora pannellone contro ue bebru sono cotto oggi vorrei giocare di gioia orari di lavoro mi sballano eh lo so tu lavori come i cinesi fra eh come migliorare i movimenti dipende diciamo che se sei da playstation è un po' complicato ma anche da xbox perché non c'è il fov però l'unica cosa è cercare di sicuramente di avere un monitor piccolo con cui giocare non grande uno e due su un multigiocatore oppure su un malloppo devi iniziare a fare le scivolate le i salti a destra e sinistra devi iniziare a fare un po' queste cose qua quindi devi giocare tipo a malloppo dove tu pure se muori torni subito non perdi la partita dove andiamo dove andiamo andiamo qua mador come se non l'avessi detto è il mondo è il mondo è il mondo hai visto? è il momoride ha preso il biscotto uzzio ah ho già visto il battone ostia 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 un cazzo di gas eeeh caculo che hai buono no bella bella sta partita ragazzi è andato tutto secondo i piani a bomba proprio la partita del secolo zio ma che è successo? no si è bloccata ma si è bloccata la webcam raga nessuno mi ha detto niente guarda là come è rimasta fra guarda là come è rimasta aspetta aspetta che è successo ma che è successo fra ok vai facciamo facciamo l'altra vai allora lupo mi ha visti se c'è posto c'è anche nicola che ieri ha preso sonno dai dai tra poco tra due tre partite si libera il posto comunque stamattina è ingiocabile tutte le lobby si ma anche adesso infatti non stiamo trovando lobby facili eppure sto sto giocando con voi non sto col team che abbiamo tutti KD3 zio pure sono difficili comunque sto giocando con l'NZ ma ho ucciso ancora si no a media distanza non è male ancora fa qualcosa solo che ecco se ti allontani di più che spari molto più lontano non fa più danno adesso si è bloccata adesso si adesso l'ho sbuggata fra minchia come ero rimasto bro allora ok non ho capito allora vediamo se trova la partita bro vediamo un attimo peccato questa qua cosa è successo qui vediamo un po' le novità gli aggiornamenti non si sa siamo al 28 luglio no che dente bro ma questo è un dente di balena non l'ha trovata ma questo è un dente porca miseria bro mamma mia ma solo il dente è grande quando ho la mia testa allora comunque che arma fa male da lunga gettata secondo me il grau hanno potenziato il chilo però secondo me il chilo è tipo un nz adesso l'hanno un po' potenziato ma secondo me non saprei c'è l'm13 che molti stanno usando l'amax l'hanno potenziato l'amax il cr l'amax se potrebbe provare quello se giochi ad occhi chiusi forse qualche chilo riesce a farla mamma mia io manderei una citazione a laurent per no molestie però desconcentrazione no desconcentrazione in come posso dire no lo so ti mando una citazione per danni morali danni morali e e mentali che crei cecchino sono potenziato di nuovo forti si hanno potenziato qualche cecchino eeeh non esageratamente però diciamo qualche cecchino se può di nuovo usare hanno potenziato i eeeh hanno potenziato tipo di nuovo due bomba purtroppo origin con lupo si spacco le lobby come sembra dai eeeh sto arrivando a prenderti o never io vi blocco ragazzi vi blocco vi blocco e vi segnalo d'activizio esatto esatto laurent costa troppo costa troppo non vale i soldi che lo fanno pagare esatto 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 Ah oggi con l'aggiornamento, quanti, quanti? Sotto due, due, due Nooo, ha sbagliato tutto Ok, ma ormai c'è quello sciolto Eh, lo vengono, lo vengono Lo vengono, lo vengono, lo vengono Per puzzo scappa Bellissimo Ah no, ma Ma devastanti comunque queste lobby Ciao Lupo, ciao Romina Buonasera, benvenuto, F5 è tornato Lupo Sì, ma lo sconsiglio L'ho provato, non mi è piaciuto Non mi è piaciuto, preferisco Loven più forte secondo me Secondo me Armamento è Loven adesso, scioglie Proprio Madonna questa Oh gente Non è Cazzo Che cazzo ho fatto, ho sbagliato Va di Bah Un pad, purtroppo un pad intermedio Non mi viene niente in mente No, è sparito il pallon Vabbè lo credo, tanto c'è sta qua il pallone Dai Andiamo col pallone, vado a pushare Lo costruisco, ciao Bisogna tu al living, vado al living Mi butto come una capra Cazzo Guarda qua, è esplodo questo Nooo, c'è un altro che mi aveva beccato di fa' Questa cazzo l'aveva trasciato Ma come fa' Che cazzo male Quante fa la terra Alex È l'ultimo, è l'ultimo E tu be' puzzo non veni qua perché mi sa che è finita male la storia Cazzo ho preso le mie armi Ma questo lo vedo un po' strano Questo citta? Qua uno Ma mi sa che è quello citta eh Spero di no, però l'ho visto fare un aggancio un po' strano Si lo so, è qua Vai Roberta, mo ti invito No, pure qua le casinette, non ci credo È pieno, pieno Eh, comodo Ua, mammacello, panico Grau non ce l'ho ancora, te lo devo far vedere L'ho messo ancora Mi sparano No Fuggiti, fuggiti Niente, niente, sparano uova, assurdo Oh Ma dai Assurdo, 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 assurdo È strano tutto all'ho vista, no eh È buono che ti sei fatto mania quello l'ho un po' strano C'hai due sotto di te Nooo Ah Vabbè mettesi Allora Non si può andare sul lancio Eccolo Oh Grande, è brava Venga, prendimi la roba di quello Attento che sale l'altro eh Eh, è andato qua uno Oh, ciò, ciò Il pallone Dovrebbe stare sotto Dov'è? Dov'è? Dai One shot, one shot eh GG Bello Fatto L'ho lasciato one shot Ma no Dove sei? Sono qua dietro, sono qua dietro Mi hai confermati quelli sul lì? Sul tettino basso? Sì 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 Chi mi ha eliminato? Mio Mio Ma già 13 persone No, vabbè Ma le lobby oggi fanno paura Avevi al Owen che lo preferisco Beh Eh, niente Non è neanche partito il secondo giro 13 persone Vabbè, ma hai visto come stanno pushando Come si sparano? Si stanno divertendo a morire le persone Oh Due di qua Uh, questo è sceso qui Ragazzi uno lo shot Lì Due Oh Dai No, no, no Due a lancio Due a lancio E stavo trovati Aspetta che gli metto un pallone porco Con due gli devo andare in fascia Ma in che senso? Attenzione! Si vola! Arrivo Dio Mi sa che arriva un po' tardi Oh, ho sbagliato No, ho sbagliato Vai, vai, vai È dentro? Oh, dove c'è lui? Dai, ma è sparito questo? Dove è andato? Era dentro Nova L'ho inseguito per tre ore Non c'è Non lo voglio far tornare Perché rompono le scatole Cioè, è un team Vado su Abbastanza tryhard Prendo un po' di roba, va Prendo questo Oh, wait, this is unbelievable No, che poi fanno i complimenti anche a te Se sentono parlare capoccione Oh, vabbè Oh, no, 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 no Portalo dietro, portalo dietro Ah, cazzo Questo è tornato Questo è tornato, figa Se hai preso la mia ho ucciso Ttv by Ttv by Ren Ttv by Ren Ttv by Ren Ttv by Ren Sii aiuto A me la mia lupa Mi è arrivato l'amico laughs Ma è arrivato l'amico A Ah Allora, così perché l'ho trovato a terra Non è male, l'hanno potenziato salvo Però so, io sto andando di grau, preferisco il grau Sincero È sotto? Sti spagnoli maledetti Stanno rompendo le scatole Da inizio partita Ancora non riesco a buttarli fuori Aspetta, aspetta, aspetta Che è successo? Siamo poverasci, uè, Andrea Pass Salve, salve, buon pomeriggio, buon pranzo È un soldato nemico È un soldato nemico, ha chiamato Attenzione, sul tetto forse Sì, sì Niente, torno Mi che c'è un altro pallone Sì, due, ti ho vinciso te, non fuori Che palle Sto tornando, bello Staccato, madonna Restato, lo restato, lo restato, lo restato, lo restato Lo ci penso Vai, vai, vai Vai, vai, vai Anche tu No, mi esce su uno, mi esce su uno Porco, due Staccato Sparate, è l'ultimo Dai Dai Fatto È l'ultimo E dov'è? E non lo so Dove sei? Volendo se mettete i soldi insieme potete pure restare Dai, dai, c'è lo shop sotto, vedete Vai, vai, potete andare Prima che parte la safe, fai 20 secondi 3.600 però, non basta Vai, vai, 3.000, 3.000 Sono 3.000 per essere 3.000, scusa Vai, vai, vai E che hai fatto? Non hai restato? Eh, non mi ha restato, bro Come non mi ha restato? Mi ha restato di là, ostia Mi hanno restato di là Che hai fatto con 3.000? Non mi ha restato, bro Ho restato, ma non mi ha restato Non c'è niente Vabbè Minchia, non ci credo Che sì, figa, tu ha restato? Ma non mi ha restato Ma perché non mi ha restato, raga? Vabbè Eh, sono tutti di là Non c'è nè bombardo, nè un cazzo Come è possibile? Andiamo Vabbè Mi hanno restato, ma non mi hanno restato Non mi ha restato, raga Vabbè Non ho capito che è successo Però vabbè Vabbè Non mi ha restato Vabbè Sì, ho visto, Riccardo Ti ho ripostato Ti ho ripostato Cavunque Ragazzi, abbiamo scoperto Che se fate punto esclamativo Tipo 30, 29, 50, 80 Di base a quante stelle avete Poi nell'account Vi manda le stelle direttamente Con punto esclamativo E mettendo un numero Non mi metti l'antelettorale Forza Vai Qua, 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 velocemente Peccato Boh, regà Boh, boh Raga, mi si è buggato Non lo so Non ti metti l'antelettorale Peccato 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 Questa era una partita vinta Questa era una partita vinta Persa perché si bugga il carrello Non mi resta Mi stende che sono entrato Dove ho visto la confusione Per forza la confusione Quello c'era 3.000 Va al carrello per restarmi Spende i soldi E non Oh, hai visto? Guarda Michele Punto esclamativo 10 L'hai visto? Sì, ho visto, ho visto Quello va al carrello Spende i soldi Il carrello Gli fotte i soldi E non mi resta Cioè, ma com'è la situazione? Non lo facciamo anche più a strada Ma non ci voglio credere Mirchetto Sto usando Grau Ed Owen Povero l'uva No, ma io Io non c'ho più parole Veramente Io sono arrivato al limite Proprio Udi esclamativo 15 Eh, mi sa che non ce l'hai Orlando Non ce l'hai Bella frate Bella Michele Bella a tutti La classe di lupo io Ah, c'è la misera Bombo marigio a tutti Allora, stavo a D Mauven Luco, perdona Mi cazzo Mauven Allora, mi servirebbe un posto Per Per Overta Abbiamo fatto un'ora insieme E è arrivato alle 14 15 14 Scusa, alle 13 15 E adesso sono le 14 21 Abbiamo fatto un'oretta Ringrazio per aver partecipato All'estrazione Aver vinto Grazie a voi Vabbè, quello è scontato ormai L'unica L'unica cosa Aspetta un attimo Non so se Roberta Mi ha giunto tra gli amici Già Perché io non la vedo Forse Aspetta Devo fare una roba Roberta Lei mi ha già giunto Tra le amicizie Ma vi faccio vedere il grau Vi faccio vedere Questo non mi ricordo Sto ragazzo L'uovo 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 Sì L'uovo Aspetta Li faccio vedere tutte e due Allora Il grau è questo qua L'uovo Te lo dico io se vuoi Eccolo qua Poi allora vediamo Dovrebbe andare anche Ugo Poi più tardi Comunicato di rinculo Giusto? Dove? L'uovo Sì 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 Comunicato di rinculo Poi entra Ugo Non ha giocato Sì Va bene Tranquillo Tranquillo Allora Dove uscire o no Io Chi è Ma mano Tamburi 72 Allungati Impugnatura In polimetri Acrobat E celerità Io Sì Tu Maowen Mi serve il posto Non so però Robby Dov'è Va bene Nel caso entrassero un attimo Prima Ugo Poi comunque Entra Robby Quindi Va bene Sì Comunque il posto Mi serve Che dobbiamo fare un attimo Entra anche gli altri Allora Questo è La Grazie mille E la E buon proseguimento allora Bella Bella Allora Allubo Uno anch'io Se è possibile Certo Certo Omar Certo Allora Facciamo così Dai Il primo che Entra adesso Perché in teoria Avevo il posto Conservato per Per Roberta Però non Non so Forse ancora non è tornata a casa Poi magari entra dopo Apro il party Regà Il primo che entra Primo che gioina Giochiamo Bella Michele E Mo Perché non mi ricordo Quindi né di Ugo Né di Né il tuo Omar Non mi ricordo Quindi entrate se so Ma aggiungetemi Tanto dopo sta partita Comunque Peppuzzo fa posto Sì sì Esco anch'io Bravo Bravo Eh dai È così Facciamo un po' di cambio La Nikita Sì hanno potenziato la Nikita Sto contro il Mega Ma non me ne frega niente Devo giocare Grande Grande Omar Siamo già amici A posto Perfetto Io ho aperto il party Primo che gioina Partiamo Lupo scusami L'impugnatura L'impugnatura Io adesso L'ho cambiata Un attimo Sto provando Il Mark 6 base Nell'Owen Allora Fammi vedere No Scusami L'impugnatura L'impugnatura Sto usando Fettuccia Ok Pronto Polimeri Meno male Sì ho Fettuccio Polimeri Al momento sto Con Fettuccia No Robby Non Ah c'è C'è Robby C'è in realtà Non mi fa entrare Ho messo Dove ti attivare Il crossplay Eh io ho messo Aperto E fu così Che entrarono In 500 No no Ancora Ancora no Ancora sto aspettando Comunque ho aperto Il party Dove ti attivare Il crossplay Eccolo qua Andrato Andrato A posto Si parte Zio Bella Bella Buonasera Mi sono svegliato A poco Mi sono svegliato Ora Giuseppe Grazie al follow Benvenuto Mi sono svegliato Adesso Bru Allora Capitolando Lavoro di notte Lavoro di notte Io sto Spettando Per accedere Allora Felice facciamo così Facciamo questa Ci sei tu con Nicola Entri Che ti avevo già messo prima Vieni tu con Nicola Va bene Vieni tu con Nicola Facciamo un po' di posto Va bene Facciamo un po' di posto Dai Facciamo cambio Pepuzzo e Alex Vieni tu con Nicola Va bene Dai Dopo di questa Entri tu con Nicola Inizia a discendere Però dai Dopo di questa Entri tu Questa è la partita giusta Vediamo Vediamo I don't know Qualcuno Sa il progetto Denominatore No Non mi viene niente in mente Adesso purtroppo Fra Se qualche Moderatore De me lo sa Mecchiamo al Game Week Lupo Esatto Esatto Penso di esserci Comunque Dovrebbero farlo Sempre Questa volta Vengo ancora Dietro E nella live Ti commento Non so come funzionerà Quest'anno Non so come funzionerà Però dovrei esserci Voglio la win come ieri Vediamo Fra Sono belle partite adesso Buonasera Buonasera In teoria Sono ancora le 14 26 No ma sono tosti Io non ci sto dietro No oggi sono belli tosti Per di solito è la sera Che sono le parti Molte complicate No Invece Ho giocato meglio Ieri sera Che adesso Mamma mia Oggi stanno Come gli animali Stanno Ma che vision Di fare Ritorno Ventetti Perché l'uvo È molto Infatti Possiamo chiedere A tutti i vision Di aumentare Almeno solo Quelli squadra con me Almeno Ad essere in Magari in 20 No però In 10 In 10 alla volta Comunque L'NZ Secondo me Non hanno fatto niente No è da lontano Che non spara più Come prima Diciamo che Da vicino È ancora Un grosso Io faccio tipo Il colpo singolo Guarda Cioè Sempre come mitra Ma se fai come Il colpo singolo Sì sì No ma noi parliamo Di distanze lontane Tipo che da prison Spari Verso stronghold Prima squagliavi Ma adesso Adesso Non fa più Quel tipo di lavoro Però Comunque È sempre buono 100 metri Ti scioglie Di brutto Sì 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 Quello Quello ancora fa danno Con quella distanza là Chissà come hanno fatto Cambiare Vabbè Allora Che è successo qua Happy Tuesday Happy Tuesday Happy Tuesday Everyone Happy Tuesday Allora 3 2 Si va a mare Con tutti i banni No bio Dai bio Bio Terra 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 Vai Ma bene È sotto Mi sa il suo team Ora in volo Che cavolo Ho sparato All'ultimo Attuto Mi di solito L'altro sotto L'avete fatto? No No Niente Allora è qua in giro Che cambia Eccolo lì Forse preferisco Uno è tornato Uno è sotto proprio Infatti Sai che mi sale Se non io riscendo Dai 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 che è nostro Dov'è? Sono un suono qui Dov'è Sono un suono È qua È qua Da me Tu No 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 Non ci credo C'era pure Confermato No Dai Accrazzato Accrazzato Bellissimo What? Ma ero distante Da lui Vabbè Ma è gioco Strabagato Comunque Eh sì Te l'ho detto Prima Dai Ma non Non mi può Fare la mossa finale Quando è distante Da chilometri Non era dietro di me Va Ce n'è un altro Dove? Ma che gioco Rotto Primo piano Sarà Sarà Ma vaffanbaglio Ma te la faccio A te Aspetta un attimo Vieni qua Stronzetti Dove vai No no Non me lo filare Non me lo filare Vaffanaglio S'è confermato Aveva capito Che io volevo fare la mossa finale Gli ho dato il cazzotto S'è confermato Si è buttato a mare questo Ah no Oh 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 Vieni qua Vieni qua Vai Bella Non te ne ha falla nessuno Non te ne ha falla Bella Oh 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 Terra Oh 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 Metto A terra Oh uh Sul tetto Terra 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 Oh no Eh non va Un battera, un shot sotto E' forse Potenziale Peccato Ho acceso e ti hanno fatto Quello citta, bra Non mi può aver fatto la mossa in quel modo Non era manco attaccato alla mia schiena C'è, quello bluetooth Si è, si è, il wifi Boom, boom, boom Ma io te confermo a costo di morir Porco duo Che figa Non potevo ammazzarlo prima, il bombato Uno sotto lo sta arrestando Eh, si è arrestato Dove è andato via, dobbiamo andare Io vado via Si, si è visto, si è visto No, l'ugasse L'ugasse Non so se riusciamo, eh L'ugasse No, sul tetto Oh no Help me Ah che ce l'abbiamo fatta Tutto a posto Tutto a posto, tutto a posto Che figa Sembra libero, eh Sembra libero, eh Sembra libero Ok, sembra libero pure qua Aspetta, forse è meglio se prendi il lancio Anche se c'ho lo... No, anzi ve lo lascio Dai, vado a pushata senza il lancio Tutto bene qua No, Domenico, se lei non dona Mille sub, no Dove sei? Sopra? No, lì, intera Arrivo, arrivo dietro, ho visto ora Mi pusciano le spalle Sotto al boccione, no? Guarda, dietro Ma è uno, è uno, regà Gli altri sono tipo ad arbor L'ho fatto, l'ho fatto Attenzione, perché palloncino Guarda che figata Dove vai? Io sto andando qua, sì Stanno qua Let's go Arrivo Oh, madonna Ha tirato la bomba, ha tirato la bomba Qui, qui Arriba, arriva, arriva A terra Mamma mia, è unbelievable Quanto scoppia l'Owen Bote, vengo a spacca tutto Ho partito C'è una casa di fronte Eh, c'è la casa di fronte Sai che cacchio Non c'ho l'arma da lunga distanza Per sparargli Però mi prendo No, cacchio suo Eh, ma c'è tirato Niente, fine Perché come servivano le piastre Oh, è questo Cacchio, è stunnati, stunnati No, 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 no C'è gente Sopra Non so Non ho più piastre Ciao Sono morto Come sono? Resistete Arrivo Non so, ma la giapponese No, lancio, lancio Dimmi che non scade Dimmi che non scade Dimmi che non scade Cos'è? Godo come un riccio, zio Oh, no Oh, ma vatteli cazzo tu Ma vaffan... Dai, con la pistola Mentre mi faccio volare Oh, via Via, via Madonna Fuggi, fuggi Che si è rubato le mie armi, questo? Dove sono morto io? Fuggi, fuggi Ah, dai Speriamo che sono rimaste le armi lì Cinza armi No, c'è un altro team che entra No No Dio, dio Sei l'ultimo, eh Sei l'ultimo Attendo, tre secondi Tre secondi Spara Dai, fa Sono vivo io Sono vivo io Sì, è tornato l'uovo È una voglia Ci ho fatto il devasto io Ma dai Questa è... Questa è che fa la... No, no 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 Si è rubato le mie armi, sto stronzetto Ciao ragazzi Buon pranzo Ciao di pure Ciao 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 Allora Peccato, peccato, peccato Allora Dove è Felice C? Buongiorno, Cristian Buongiorno Buon pranzo Buon pranzo Buon Natale Buona Domenica Allora Felice C Niente Bella ragazzi Ci becchiamo Allora Entra Felix Dove sei? Entra, entra Fra C'ho il party aperto Mi stanno arrivando il cibo Mi stanno arrivando Certo Da Burger King Eccolo qua Eccolo qua Vai Invita Nicola Buona segra Invita Nicola Nicola che ha fatto Ciao Peppuzzo Alla prossima Allora Che ha detto Nicola Facciamo questo E poi Quando Quando Praticamente Deve venire Poi Devo invitare Robby Aspetta Allora Ti invito Robby Un attimo A me è tutto Allora A me è un secondo Allora Quindi praticamente È tornato le armi di moda Esatto Sono tornate quelle lì Come armi Vediamo di fare una win Che ancora non siamo riusciti A fare la win Ho invitato Robby Che doveva andare Però non entra Cos'è Non da hamburgers E mi sa Mi sa Che non c'è Mi sa Che non c'è Possibile I don't believe it Doveva entrare in teoria A quest'ora Ma Non Non c'è ancora Vediamo un attimino Aspettiamo un po' Ah eccola Eccola È riuscita a entrare Scusate Scusate Ritardo Ho visto dopo Buongiorno Buongiorno Buon Natale Buon Natale Buona Pasqua Un capodanno Buon tutto 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 Ci portiamo già avanti Vai vai Andiamo a spaccare tutto Eh l'aspettavo L'aspettavo Eh 38 minuti di ritardo Attenzione No non è vero Però io A mia discolpa Ho scritto prima Quindi Io non ho letto Non so niente Eh allora Non è colpa mia Eh andiamo Allora È nata una metaglia L'uvo bianco Io Io Voglio 10 milioni di euro Voglio Mi servono Voglio andare in vacanza Allora Perché non devi bere A proposito Io ho sede Mi hai fatto ricordare Che forse ho sede Forse Però non lo so Vediamo Sto morendo Perché è riunita Che è successo? Ma dove devo andare bro? Non ho manco gli occhi per piangere Se Gesù e Dio Mi fanno un miracolo Che qualcuno mi ospita Tipo a Riccione Vado a Riccione Capito Tu vuoi non ti Mettere pure tu Ah Lulù Scusa Non io Ok Che vuole da me Allora Felice C Mi raccomando Concentrati Che qua Oggi sono belle tosse Ste partite Infatti Auguri Auguri a tutti Dai come mi dissocio Da Gioele Dice Bepes Finalmente un po' di gnagna Oh prima c'era anche Lulita E voi Perché siamo Perché siamo un po' tutti coliardici Dai Sto cavolo Di dove si va ragazzi? Allora Io mi seguo Vai Andiamo che Michael Dai Sì sto usando il grau Pietro C'è l'altro Che è entrato qua Roby Fatto a terra Mamma mia Che precisione Ti resta Ti resta Ah non ti resti Ti faccio la mostra finale Ciao Sono proprio un pezzo di fango Oh Mi hai fatto cagare sotto Ok si esce in quel modo Da quella finestra Da quella porta Cioè Domenico Vuole l'aulin Senti per il lancio Tra i soldi per il lancio No Ha solo 500 No mancano Mancano Mille Ora l'ho trovati A posto Mancano Mancano Mille Quanto altro Eh vabbè ora Quando mancava Mille 12.000 Ho troppo Niente Bisogna Comprarla No C'è la C'è la Tira la Tira la Come on Come on Give me the watch Ho messo il pallone Io prendo il pallone Ciao Prendo il pallone Perché poi c'è il cecchino qui Una cecchinata Al giorno E va il medico di giorno Chi è sto stronzetto Boom Mi hanno fatto il lancio Boom 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 Craccato Boom Boom No 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 Come Ma tutti come ce l'hanno Mi fa che dente qua sotto Pannaggia Spara Mi spara Una terra qua Grande roba Mi hai fatto super Mi hai fatto super Mario No Che è successo Aia Niente ho preso una boccia di banana Una terra via Due sul tetto Niente mi devo lanciare Purtroppo Stanno come I coniglietti Lassopra Ho provato a fare un po' di roba Non ci sono riuscito Però si ricorderanno per sempre Il mio nome Chi è? Maurizio Venezia Dammi qua Felice EBC Mi servono Mi servono i soldi Per le piastre Che ci dai Sul tetto di qua In grosso Ho visto Quanto? Arrivo Maurizio Grazie per l'abbonamento Bro Benvenuto E' buttato A terra Super Mario Ah Mi vedeva Guarda dov'era Guarda dov'era Guarda che culo Ma Guarda che culo Attenzione Chi è che si sta facendo vecchio? Io si culo Guarda Sono qua sul tetto No Sono qua sul tetto Unbelievable Unbelievable Non scendete qua Non scendete qua Guarda che Eh dai Eh dai Ma non vi hanno imparato l'educazione Niente Niente Devo rompere le scatole M13 Brixer Chi tra ieri da destra Chi tra ieri da sinistra Questo Spara a me Poi cade a terra Codico il porco Tra poco divento una bestia Sennaggia la miseria Non clippate Vabbè Mi sono pensato alla scena Stavo visto Sto ridendo da solo Fattibile Non c'ho Oddio Non è proprio fattibile Mi può fare Guarda col coltello Non ci credo Regà Do di matto Ve lo giuro Do di matto Ve lo giuro Guarda Guarda Giustamente Tu spari a uno No Non fa la clip No Rob Eh C'aveva un'arma Troppo pesante Rispetto a lui Quanto pesava Troppo Troppo Dobbiamo pigliare il lancio Signore Tanto che c'è le sopra Le scalette Ecco la grata Adesso il lancio Fuori safe Non scompare più Dall'aggiornamento A quanto pare Oh si No Eh A quanto pare Questo non è un caso No no È già più di una volta Che non scompare Ok All for Stiamo sparando All for Stai via Farci i vostri Grazie Ah Aspetta Quella Pucalipa Ti piace? Ce ne sono due Qui eh No No Mi trovate in mezzo a due team Ma che cazzo sta succedendo? Ma che cazzo succede? Vabbè tornate voi, il problema mo' è mio. Eh già. Oh no, tutto è bello. Le savage, le savage, aiuto, 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 Giorgina, Giorgina amore mio, ma che fai? Ma come mai ho sparato a due di là, tu mi fai alle spalle, non si fa così? Non si fa così? No, infatti. Mi ha ucciso Giorgina, mi devi vendicare Robby, mi devi vendicare assolutamente. Dai vinto, hai vinto dai Felix, al mo' arrivano da prison eh? In bolo non vedo nulla però, ma ci dovrebbero stare. Minga, sono tre eh? Eh, Giorgina al mo'. Sono un cretino. Fortuna che era senza piastra. Peccato. Peccato. Volevo fare la giocata che ho fatto... Come si chiama? Volevo fare la giocata che ho fatto quando giorni fa che stava un tizio che conoscevo su quel tetto e gli sono sceso all'ultimo e l'ho killato. Non mi ricordo se era in torneo che ho fatto questa giocata però non ci sono riuscito stavolta. Allora... Dopo d'invito Francesco, dopo d'invito. Allora... Dopo d'invito, bro. Va bene, faccio... Vai con l'altro, vai con l'altro. Va bene, è andata così. Dai, ci riproviamo. Allora, ci sono due palloncini nel deserto. Uno dice all'altro, occhio al cactus. L'altro quale? Cactus! Cactus! In questo momento c'ho la rotellina che gira a vuoto e carica ed è bloccata quando non prende la connessione. Lupo, il chilo come ti sembra? Ehm... Il chilo... Il chilo. Da lontano, secondo me è un po' come l'NZ che al momento non è che fa tutti sti danni. Però... Diciamo che a metà... A media distanza squaglia. Cioè, pure quello fa danno adesso. Non hanno potenziato. Ma la skin che usi dove l'hai sbloccata? Secombro, Francesco. 20 euro. Paga! Paga! L'hai detta malissimo, vergognati. Scusa, quello scrive. Ci sono due palloncini nel deserto. Uno dice all'altro, occhio al cactus. All'altro quale? Quale cactus? Ah, perché viene pizzicato e se prende e inizia a volare si fa male. Quindi inizia a gridare cactus. Eh, lo sai, mi ricordo quale armi stanno in sto pacchetto. Non mi ricordo quali erano le armi in questo pacchetto. Costava 20 euro, comunque. Chiesa, forse lo trovi ancora in... Devi andare sul negozio di Call of Duty, ma... Eh, non si compre con i CP, devi proprio pagare 20 euro. Quindi devi andare in quella sezione dove ci stanno i pacchetti solo a pagamento. Ma quanto è bello il grau piccolino. Spongebob. Spongebob. Eh, niente. Eh, l'ho capito dopo, però... Vabbè, ma che è quella battuta? Poi è venuto pure Bamba. Come sta? Sei stanco? Secondo me Bamba è parente a Gilbert Lanà Ma è assurdo quello che è successo È arrivato un po' in ritardo Bamba È arrivato un po' in ritardo Mamma mia Quando ti spogli Io ce l'ho fame comunque ragazzi Mamma dove sei stato? Control Chiamo control prova prova Grazie a tutti sono molto molto stanco Ma io vorrei capire che cosa fa Che ogni giorno è stanco Giuro che Giuro che io non capisco Mamma mia raga Che è successo di là? Mi sono assentato un secondo No ragazzi C'è un po' tanta gente Ma non è vero non ce n'è su Guarda guarda C'è questo poveretto qui Ha preso il biscotto Aiuto Oddio Facciatevi stare Siamo tanti Siamo tanti Bro Scappa via Scappa Magari Magari Sende questo E va via Siamo tanti Sono pronto Va bene Va bene Allora Finiamo sta partita Finiamo sta partita Sende dentro No Niente cambia posto Non scende qua No ma ormai sono Cambiamo posto Cambiamo posto Chi è arrivato là? Cos'è la scoteca? Io voglio conoscere bamba Anche voglio conoscere bamba Ciottini di volase Ma che c'è figa? Oh scusate Dai dai Rifacciamo tutto qua C'è gente allo Allo shop No Oh si ho visto Vola vola No ma c'è uno qui dietro Regà Camperato Gigi Ancora Giorgina Uno sta andando verso la nave Oh ma chi è? Gigi Putto un grappolo per sicurezza Stiamo tu a terra No 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 Non ce lo voglio credere Dai 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 Non posso venire a salta In teoria Ti è lanciato È arrivato Ti pusha È qua Dietro di te Dietro di te Aprete il biscotto Guarda avanti bro Non ho paura di niente Aspetta Vado a dio Vado a dio Ma che ho fatto? No Mi sono buttato Una stringa addosso Oh Chi cacchio è stato? Botto a destra e a sinistra Chi è quel pazzo Che è venuto con me? Un pazzo lo sai Sembriamo i 300 Bloccati Dentro le termopili No è qua dietro Qua dietro Sto Guarda salita in barca Salita in barca Ecco Guarda salita in barca Scappate voi Fuggite Sciocchi Tu 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 What era l'altro? Oh Non ci finiscono Non so da l'ora Ecco Ecco Ma che cazzo Sopra Ma dov'è? Guarda dietro Non riesco a prenderlo Non riesco a prenderlo Sono troppi Fuggite da qua Fuggite Un angur un ice Ci sta capendo niente Regà Ma che è successo Guarda un magiello Un magiello La battaglia delle termopili La era Vi sparava a sinistra Che ore è? Che ci mangio Torno a lancio Torno a lancio Bisogna vendicarsi Primo soggetto Come va a saperlo? Come fa a saperlo Che ti sto venendo a piaccia Giorgi Allora Mi ho messo 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 Mi è finito Mi è morto adesso Niente Giorgi Mi ha fatto Comunque Di consiglio un asalto Il KGM Provo le forte Il KGM Pure è stato Potenziale No Sul tetto Arriva sul tetto Allora One moment One moment Tonno At the loadout No C'è gente Sì Non si può tornare Proprio Col cavolo Straccato Quello dentro La casetta Che spara Sta salendo Sono io Sono io Dai dai Dammi qualcosa Del bello È molto bello Che c'è? Sta appucendo uno Questa è sceso Da lì sotto Mi sparono ovunque bro È morto Eh vaffan'gubbo va Vaffan'gubbo va Che c'è chi è nato Giorgi È ancora Giorgi Fra ancora Giorgi Ancora Giorgini Pum Madonna È una data Ciacchinata Pum 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 Guarda perché l'altro Non è andato a terra Non ci credo Vabbè Peccato Peccato Simone Grazie nel follo Benvenuto Hey Don't believe it Peccato Che Disastro Che disastro, che disastro che è successo lì Allora Fammi pensare Facciamo l'ultima Omar E chi è, chi è che va Ah ok, allora entra Omar Che stavo aspettando, va bene Eh lo so, c'era pure Omar C'era pure Omar che deve entrare Entra tra poco dai Nicola Entra tra un po' dai Bella, bella allora, di nulla Ugo dai Ciao Lupo, grazie mille Un bacione, ciao ciao Vieni Omar Sei tu Omar? E come lupo? Sei Omar? Sì Ah, a posto, a posto, a posto Vai si starta, poi dopo Vediamo un pochettino come fa Hai sa che non è riuscito a giocare? Eh facciamo così dai, facciamo così Facciamo così dai Se fai l'ultima tu e poi entra lui Eh sì, sì Eh su, io non fa tardi, annaggia la miseria Annaggia da papà 50 euro Se no Allora Sono pure io alle 15 Dopo entri pure tu Dai, dai, dai Dopo entri pure tu Dorian Don't, don't worry Don't worry Purtroppo siamo tanti, raga Siamo tanti Ovviamente chi fa l'abbonamento E giochiamo Fisso ogni settimana E del posto assicurato Quando siamo così Siamo in tanti Quindi Vediamo, vediamo Dai C'hanno due partite Qua Dai, penso tra Allora esce lui Entra Nicola Che pure stava aspettando Da una o due partite Entri Dorian Comunque Una o due partite Entri Si libera al posto Un pomeriggio, Massimo Però conservo Ricordami il tuo ID Che nel caso ti invito stesso io Un pomeriggio, Massimo Ah, è vero È vero È vero Che sei È vero È vero Che sei È vero Che sei Ducci Mamma mia Delirio E panico Su Rabbit Mamma mia Se mi è entrato In fase Tutto 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 Si spara tutto Andiamo Ci siamo Ci siamo Sì Andiamo Andiamo Vai Lupo Io Randa Bio Weapon Bio Andiamo 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 Bio Weapon Allora Grande C'è Vero Mamma mia C'è 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 un botto di gente Che sta arrivando Vabbè Comunque è incredibile Oh ma che ci guardano Alive Ogni volta C'è un 3.000 C'è un 3.000 Dove stiamo Tutto però Non c'è nessuno Comunque Oh ecco Spargo Vabbè Le spalle Aspetto Detto 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 Ah Mi girate Grazie Sapevo che uscirò da lì Ma a darmi i pari L'avrei spaccato Vabbè Ancora lui C'è un silenzio di tomba Il giovane Il giovane Uno di loro è bravo Sempre sta cazzo di arma C'è un silenzio di tomba Ma mamma No No Eh Vabbè Ma quanti sono Vabbè 3 me li sono portati via Dopo punto esclamativo del numero Farete tornare 30 euro Le stelle Provare per credere Incredibile Lui da proviamo Metti 10.000 col punto esclamativo Vedi che succede Ok Sono tornato Regà C'è solo il Nikita Da terra Bello Qualcuno sul tetto Dovrebbe stare Sì Noi staranno in fondo Da tutto Ma ecco Da primità Perfetto C'è un full team Lì Vabbè Sono tre Sono tre Sono tre sotto Tutte e tre sotto Un pazzo È arrivato Non c'ho più Io non c'ho più munizioni Trenino Thomas Guarda 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 Porco di quel porco Sono in due Ah mannaggia Trenino Thomas No Dai Eh no Sempre qua Dobbiamo tirare fuori Questi Ma sarà possibile Che perdiamo Condottorino Thomas Ma no Scherzare Pro Stanno facendo il giro Fatti Fatti Giro da qua sotto Staccato No La visuale Sempre Da solo Insieme a qualcuno Un momento Solo Solo Sì 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 Eh questo è quello là forte All'altro Oh ce n'è uno qui Forse ho trazzo il muretto Eh lo so Mi sta aspettando Ecco Attenda non farti puntare te Eh No Cazzo Sì 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 Lancio Non è prendibile Nel caso Vogliate andarci Sì È molto bello Saperlo Vero Un biscotto Di Pia Sì Sì Da poi vi rispondo Guarda guarda è arrivato Un'altra foto Queste è arrivato Guarda Fuori Fuori Oh Oh Ciao Nunzi Ciao Polpetta Signori è arrivato Un'elicottero P-p-p-p-p Sta piangendo P-p And из judged Buon pomeriggio Buon pranzo Buon natale Buon tutto Ok Un'arma di difesa Poi Una difesa di armi si sta buttando uno ma sono sopra, non ci sto capendo niente io sali G-Cob guarda si è buttato si è buttato nel lancio uno pinga sopra oh my god ma va stanno sopra bio sono più di, sono in tre tipo i zuccheri buon pomeriggio Andrea mannaggia tutto sono il nuovo bot ah questo mi fa piacere guarda non vedevo l'ora di avere il bot femmina guarda o metano e un'ora di Shost guarda guarda blebo site andando è che cosi l'ascolti non ci sta a capire niente no è che cazzo da dietro guarda che è arrivato l'ho quelle le baguette le baguette incredibili arrivano da sinistra da sopra dall'altro lato no vabbè è successo un casino cioè per un lancio è successo un macello c'era gente ovunque ho detto che non era prendibile così è rimasto signora non ho sparato tutti i lati possibili immaginabili grazie per aver detto il botto femmina poteva essere tragica la cosa perché che cosa poteva succedere allora che stavo dicendo ah felix allora mi serve il posto per quindi per nicola e invitalo invitalo tu invitalo meglio si infatti invita lo stesso tu vai per lo spazio a nicola e poi poi dorian ok dopo c'è sta pure dorian ah perché si potrebbe dire la botta femminile la botta botta femminile vabbè ma pure si dice la botta femminile che cosa non significa niente invitammi a nicola un pochettino invitato sta entrando ah no vabbè ma no ma non è vero la botta si ho capito che dici la botta vabbè ma si l'avevo capito non c'era bisogno di scriverla l'avevo capito arriva nicola perché se non arriva nicola qua sostituiamo subito arriva nicola di bari nicola di bari ricordo di bari facciamo subito un cambio all'ultimo second ma io il duce non ho andato a cercare no ma mi di so 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 così si chiama mannaccia ice lo chiamo ice facciamo così ice non lo vedo tra le amicizie ah si devi attivare il cross play eh devi attivare il cross play se no come è il gioco qua contro il computer ha già la miseria devi attivare il cross allora allora dorian dopo di questa entri tu facciamo questa e poi entri tu va bene dorian però io non ti vedo tra le amicizie fra ehm non ti vedo più tra gli amici com'è possibile what what do I have do cosa hai fatto ma tu robbie c'hai il tag eh tre gun cinque vedo vedo che c'ho uno tra gli amici che si chiama jakels che anche lui c'era esatto facciamo a parte lo stesso reggimento che tra l'altro prima ti salutava però non mi hai sentito no no saluto saluto salutameli a tutti quanti salutameli salutameli va bene ti lo dirò grazie grazie dopo del video francese ma ancora quattro c'erano altre persone che dovevano entrare prima di te allora se no nel caso se non riusciamo fammi una partita stasera se no vediamo cambierò il nick lulita bot subito lo devi fare arrivo subito grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I don't know. Proviamo di nuovo chemical, dai. C'è uno dietro, Elf, tu. Uno dietro a voi è entrato. Sparo, lo sparo. Uno sul tetto, sì. Giorgio, sta qua sopra, sì. Giorgio, mi sparaglio. Eh, va, va. Ma già ho sparato. Oh, a me è mamma beccata, sta qua, eh. Questa RPG è proprio bello. E dai, stavo a shotte, raga, stavo a shotte. È finito. Oh, ma finito. Fatto, fatto, fatto. Mi sono arrestato e l'ho chillato. Beh, ma guarda. Questa, onestamente, te la puoi anche tenere. Oh, oh, aiuto! Ah, va, 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 va. Wow, che è successo? Ma, se possono aprire anche le casse più, eh. Qua spariscono armi. E poi ti lasciano con la più marca possibile. Ti giochi anche uguali. C'è, c'è. Eh, ti prego armi. Lasciami qua, lasciami qua. No, 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 basta. No, 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 guarda, non lo mago bello. Na, 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 na. Abbiamo i soldi penso per il lancio A Gucci gigolo Era uno Eh no Beh ma eravamo da soli L'altro l'ha fatto Ah scusa Peccato Sta restando il mio Mannaggia tutto Devo entrare là devo fare un macello I maccaruno che la passa e fa su Stanno arrivando dal tunnel Un po' per il lancio Eh che che discordazione te blocca A qua eh A terra Mia Via Anche da bio Che piastra Spara Vi se li spara Servono le piastre Entriamo Entriamo Si entra 130 Ma quando Arriviamo con il dio Tu ora mi faci Ma tu 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 Tata 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 Ma va Caliu Si Gacca Tata 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 E non ci permetta mai più Attenzione Robby Non c'è posto per le piastre, non abbiamo tempo Mamma mia team Ma rest your friend, rest Allora c'erano le piastre, c'erano un po' le munizioni di quelli che abbiamo killato lì Oh da sopra, da sopra Io sono a control Eh regà noi ci siamo andati a control Eh infatti siete morti Attento Robby che mi seguono Fatte tutti e due però gli altri c'hanno quant'altro Mazzu È buttato? Minchia mi hai salvato il culo Facciamo così guarda Ah è lì sotto Uh arrivano gli amici Ah l'ho fatto dopo E vi continuano a sparare Che succede? E niente dalla nave Oh zio Baby one no Oh no War is low Attenzione One V Come c'è uno sul tetto che arriva Uh però io mi devo prendere quello Me lo prende quello sotto Me lo prendi o zio Che non c'è religione Sei ributtato Sei ributtato Non c'è più religione Non è d'amore Non è una canzone Sì perché parte alla carica 130 Martin Garrix Lo vede lo piazza Ho le due stesse armi Come ti stai trovando? Vieni dietro Vieni dietro Bella gusto Oggi sto giocando un po' con tutti Uno l'ho visto Chiette Basta che aspetti un pochettino Appena si liberano i posti Mi va a fanculo Ah mamma te Dammi uno Uh 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 Muori Eh 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 Bezza bomba Madone, questa tutta è tutta partita, è da dietro, dietro, arcozio Col grau, col grau Ho finito le moni davanti al... Ho finito le moni davanti al lume Aiuto Ciotto bombezio Mamma mia Menti bomme La bacia Le martingalex, boh, si vola Ma vi, così scoprite un attimo dove sono gli amici di zio Pera Qua c'è io Fatto, fatto, ce l'ho, vi già Eeeh, l'ho fatto anche io un po' Vabbè ce l'abbiamo uno, se non muoio Andiamo Sono un mostro, zione, grazie mille bro Sono rimasti 12, da questo dobbiamo vincerla Oh da sopra prison Eeeh, prendiamoci la casa, prendiamoci la casa Non stiamo qua aperti Prendiamoci la casa dove sto io, regà Qua, qua, qua Attenti, non mi fate metterla a terra, eh Taliamo il secondo piano Eccolo, dobbiamoci la casa Eccolo, dobbiamoci la casa Wow Vabbè, l'hai messo tu a terra, peccato Solo per metterla a terra io Non sto alessando, eh Eh, ma sono ancora tanti Siamo ancora in 11, quindi Mamma mia che scoppiata si è preso quello di là Io sono andato a prendere il tetto di 2 quarter Che l'ho messo una terra prima che se resta Se restato No, è di nuovo, è un bastardo, eh Ok, è un giù in prison, è un giù in prison Pusciano, pusciano, pusciano Oh, ecco questo Non si sente un basso Non si sente un basso Non ci sentiva questo Guarda, guarda 22 kill, peccato, regà, peccato 22 bombe Eh, Loven, io vi ho detto, regà Loven, beh, me è meta Non me credono Porco zio Grave, grave, oven Sono meta Madonna di Dio Ce l'avete dentro caso sul tetto A me mi ha fatto sul tetto Forse è rimasto lì sopra Fate 3 contro 2 Attenzione sul tetto vostro, regà Vi ripeto Uno, secondo me, è sopra di voi Tu, Giacob Vedi quel tetto lì Quello pingato rosso Quello pingato rosso Uno è là sopra Ecco Paressa Roby, paressa Roby Non c'è soldi Non c'è soldi Qua sotto ci sta Ah, pingalo, pingalo, pingalo E questo l'ho fatto Maraccato Sta davanti Sì, sì, sì Non ce credo Sì, porco du Sì Non ce credo Da l'uomo che c'è C'è l'uomo che c'è C'è l'uomo che c'è C'è l'uomo che c'è Dai Scia tutto Io faccio è questo Abbiamo vinto la coppa del mondo Wow, dopo sta partita Non si poteva perdere così Era un partitone Meno due Meno due All'ottocento Si vola a Berlino Peppe Si vola Minchia, ma avranno sentito Fino ad un altro palazzo Pronto? 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 Buonasera Buonasera amica Buonasera a tutti Vedi Gigi 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 Eh vabbè Ma erano tempi belli Quando stavamo A fare i poliziotti Su Grau Lo so Erano belli Poi È finita la storia Rega La mi facevi il video Da tanto eh Eh lo so No veramente Ci siamo divertiti tutti Mi divertivo io In primis Mamma mia Le risate Ci siamo fatti Lupo Hai visto Nicolo Non arrivava È arrivato Ha fatto la win Mannaggia a Nicolo Mannaggia Quello modo doveva venire E tu muovini a fare la vittoria Tu devi stare Da inizio di partito qua Tutto a Berlino Bravi ragazzi e ragazze Dai Una partita con Armando Che devo fa Vuoi fare una partita con Armando Non c'ho più rapporti Con lui Fale entrare al posto mio Lui può Fale entrare Entro io No 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 Frate tanto C'ho due amici miei Io che mi stanno aspettando Vado a giocare con loro E poi faccio posto a un altro Ma è tranquillo Va bene Vabbè come vuoi Nicola Ciao ragazzi Come vuoi dai Tranquilli 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 Ciao belli Ciao ciao Bella Ma stanno aspettando Capi Entra Entra Fa la win Esce E spacca E va Allora Ice Ice Quattro occhi Ice Quattro occhi Do sta Dorian Vieni a giocare Sei liberato il posto Sono tornato e hai vinto C'è qualcosa che non causa Vattene un'altra volta Laurend Grazie eh Che stavo fatto 22 kill Sta partita Per favore Torna via Comunque complimentoni Lupo Grazie mille Peccato Alla fine Mannaggia Mi sono morto Così Vabbè Ma io non ho da interessarti Solo che non avevo visto Che avevo 2000 E non 3000 Eh peccato No c'era l'altro carrello Quello lì Che costava di meno Che glielo pingava Non mi ricordo Eh non sono avuto Quello più vicino Ehm Ando sta Ice Ehm Entra un po' Zio C'ho il party aperto Entra un po' Entra un po' C'ho il party aperto Ehm No eccolo qua Qua salve Salve Buon salve Bella a tutti Bella a tutti Ciao 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 Oppa lupo Grande Bella viaggio Comunque dicevo Ehm Chi mi sono Verso Non lo so Tutto è a Berlino Beppe Questo l'avevo visto Niente Ok Andiamo a fare un'altra Wings Poi Non mi ricordo Chi doveva entrare Dopo Lo sai Non mi ricordo Non mi ricordo Più Regà Non mi ricordo Più No Ehi Mi Abbiamo fatto la coppietta Laurent Duvidru Finito Vabbè Posso anche andarmene Io comunque di lancio Ah c'è il fratello di Ward È vero È vero C'è il fratello di Wardingo C'è il fratello di Wardingo Dopo di questa L'ho Ma il bello è che io lo becco A tutte le ore collegato Il fratello di Wardingo Ho giocato H24 Ma è un robot Non dorme Non dorme C'è 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 Allora dopo di questa Lasciamo Vediamo un po' Oh ma si è buggato Aspettate raga Non trovo la partita Eh infatti Perché era crashato Lui L'ho rinvitato Era crashato Perciò non Non partiva Vediamo Rientra Dorian Che si è rabbagato tutto Bella l'unità Buon Buon lavoro Ciao Psycho Ho invitato Shop Psycho Allora Ora c'è anche il saluto Di Lupo Bianco Niente lo sto invitando Ma che è successo Dorian Prova a venire Dov'è 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 È crashato Te l'ho invitato di nuovo Vediamo Forse ti è crashato Bella Alessandro Buon pomeriggio Allora Ti sei andato a fare il bagno Chi è che sei andato a fare il bagno Tu Beh lei Dimitro Entra Spacca tutto Può farlo Io lo sto invitando Ma non entra Dorian Non so che è successo ragazzi L'hanno Hanno risucchiato nel buco nero Bene È finito in un'altra In un'altra dimensione In un altro multiverso Mi sa Oh ma sei finito in un altro universo Che te era successo È crashato È crashato Ah vabbè Niente Wey Baby Ciao baby Come stas Tutto bene Tutto bene Sto giocando un po' con la chatta Ah non mi fa entrare Ok ok Vabbè ora sei entrato tutto a posto Ok Mi è arrivato tardi il messaggio Allora Giuseppe stasera Sì bro Chissà se c'è pure tramonte Stasera I don't know Comunque sicuramente c'è frost Quindi ci divertiamo Io Beh vado a mangiare L'ultimo pezzo di cotoletta Arrivo Buon appetito Ah ah C'ho la cotoletta là Bello ciao Bello Bene grazie Tu Non c'è male Tutto bene dai Tutto bene Anzi no Me lo mangio dopo Lo mangio dopo dai Ve lo conservo Lo conservo un pochettino Allora Entra Entra Ice Ducci E Non si trova partita Signore E invece Hai parlato Baby 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 Oh No Baby Allora Allora Facciamo una storia Facciamo una storia Assolutamente No Non mi piace Allora Buona prima Di decisioni col grado Davvero micidiale L'ho detto io Adesso non mi crede E E Meta Che ha pure Dimitro Baby Let's go Bro Flo Scute Vo bringing Lo Lo Ro Just Lo 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 Sì Basta giocare Sulla zona di guerra Mi spingue C'è un soldato nemico L'altro Dove andiamo? Da ridata Da ridata Dove andiamo? Allora C'è pure giovelli ci sono tutti Allora eccomi qua Andiamo lì Che è morto in voi? Che è successo? Che è successo? Non lo so Ma è butta in acqua È un putt'a di acqua Come è ma è butta in acqua? È un putt'a di acqua Ma è un putt'a di acqua Ma è un porco due Mi ha finito la partita Abbiamo perso Non ci credo Brevi e vai tenso Ma tu mi hai crash Rientrate alla base Bello che il lupo quando saluto non mi caga Poi dice Giovele Clipper e non c'è nessuno Vaffan bagno Giovele Vaffan bagno Non ce voglio crede Non ce voglio crede signori Che è successo Niente Lei signor Omar per essere morto lì in volo Ha compromesso la partita Eh però ti dicevo lui Non posso fare niente Apro il paracaduto e non me lo apro e mi butta giù a picco in acqua Non volevo far bagno Si è buttato Si se vuole la donna rifrescata Ma non capisce che muori Quindi non gli posso fare niente Allora questo è il chilo Certo Martinez Certo Facci fare un'altra partita E poi facciamo un po' di cambi Va bene facciamo un po' di cambi Ok Doria bentornato Allora Ci facciamo questa partita E poi facciamo due cambi Vieni tu E poi dovrebbe venire il fratello di Wardingo Vabbè ho capito Vado in bagno nel frattempo che la cerca Arrivo subito Vado in bagno nel frattempo che la cerca Vado in bagno nel frattempo che la cerca Vado in bagno nel frattempo che la cerca Vado in bagno nel bar Vado in bagno nel frattempo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, se tu sei lupo, non basta che alzi la zamba per fare pipì? No, no. No, però, me dissocio, me dissocio da quello che stavo pensando, stavo perdendo una cosa, ma me dissocio. Potrei anche alzarla, ecco, per qualcuno di speciale. PILATO 1 Eeeh, che spiegato. No, 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 no. Oh my god, yes, bro. Io ti vedo ancora bella sana in piedi. Ma che devo fare io qua? Ma tu, dammi. Che cosa vuoi? A proposito, Martinez, aggiungi tra gli amici, punto esclamativo ID, eh, mandami la richiesta, se no com'entri. Dove? È andato via, è andato via. Se tu spara... Ah, ok. Ma tu, dammi. Che cosa vuoi? Mi date i soldi facciamo un UAV. Ampingo nessuno. I believe I can fly. Vai, UAV. Oh, il fuorio giù, attende? Attende? Però è uno solo, è quello del Dendo. Sì. Da andiamo, sopra? Prison? Noi sono andato prison. No, 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 no. Uno sopra, regà. Oh, 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 shit, shit, shit. Another one, another one near. Oh my god, this is unbelievable. È entrato! Ah! Me ne vado. Scappate, scappate, fuggite. Torno, torno E muori Ma vacca che era Ok, tutto libero, tutto libero, signori La mia è stata una ritirata tattica strategica C'è ci ha abbandonato in poche parole No, sono tornato, me ne son fatto uno, era tutto calcolato Era tutto, era tutto un obiettivo C'è uno sul tetto Per ultimo, attenzione Attenzione Devi mettere food Food esclamativo in chat Ti esce il comando di com'è il nome No, no, questo che ci fa qua Mamma mia Ammazzato pure quello dell'elicottero Guarda te, si deve stare lì sopra Ti potete venire tranquilli penso Eccone uno a terra sopra Dove cavolo è andato? No, no, sta davanti, sta davanti C'è gente sul lancio nostro Mi prendo le armi di questo C'è gente sul lancio Ma che la scotica C'è lui qua sotto Oh, da dietro Pure qua Yoca, yoca È morto lo Dorian, signori Eh nooo Così come stava andando? Mori Mori Ciao dall'altro lato Non so se erano rimaste ancora Ma vado a vedere se sono rimaste, va Eh, ma da mo' che No, però l'Owen è rimasto Si sono culati il ground Cazzo c'è quello qua sotto Due Oh merda, ho sbagliato L'avevo visto uno solo Da dietro, da dietro Dove è cambiato? No, è morto No, peccato Peccato, peccato Va bene, dobbiamo far entrare Mandami la richiesta Come ti chiami? Oh, una partita l'abbiamo fatta giusta Fra una partita Ho fatto 22 fra Ho fatto 22 kill Con la vittoria Poi le altre Vanno come vanno Allora Chi ha orecchie per capire Intenda Gli altri in camper Allora Allora Doveva entrare Il fratello Abbandono io Abbandono io Perché? Perché? Una mezza partita Di se fatto No, se eccoci Posso giocare Posso giocare A gioco Sì, sì, sì Ma che non uscire Esco? Sì, adesso vi dico un attimo Se c'è sta Chi deve entrare Aspetta Vediamo un attivino Se Dovevano entrare Due ragazzi Vediamo se ci sono ancora Ah, mi sa che il fratello Di Warding Ha staccato Quindi forse Sempre un solo posto Ah, entra la prossima Che sta aggiornando Riusciamo a farne un'altra Dai Quindi niente Io però tra un po' Vediamo Quanto ci mette Ad aggiornare il gioco Però, eh Perché se ci metti Parecchio Io poi tra un po' Stacco Se sono fatte le 16 Sono fatte le 16 Io tra poco Devo andare C'ho altre cose da fare Bella Ose Buon pomeriggio RBG Blu Ah, devo chiedere a Tramonte Se c'è stasera Cavolo Tramonte Tramonte Allora Tramonte No Perché non lo trovo? Dada un attimo Tramontino Dove sei? Eccolo Però non ci so per Era Tramontino Stasera ci sta Pure Frostettino Ma lei viene a fare Un po' di RPG Blu Blu Ok Ho mandato un messaggio A Tramonte Eccomi Eh Se ne sono fatte Le 15 53 Signori Come Come Hago Para Quarren Tonses Contigo Eh Tu Ahoras Stas veniendo Porco Due Mi scrive 20 minuti Vabbè Fammi sapere Eh Se no Comunque organizzo Anche un'altra volta Da quest'ora qua Di pomeriggio Quando mi collego Lo facciamo Allora Ose Eh Eh Es un pochino Tarde E ora Però Nada E stiamo Sassendo Che Dos Tres Partitas I I Famo Famo Cambio No Stiamo Sassendo Che Tu Vabbè Te lo dico in italiano Che mo Non ce la faccio A dirlo in spagnolo Stavo dicendo Praticamente Niente Stiamo facendo Due Tre Partite A testa Più o meno Con tutti Dalla chat Basta che mi aggiungi Tre gli amici Punto Esclamativo ID Mi mandi la richiesta Mi dici come ti chiami Te l'accetto Però Ma è un pochino tardi Perché Sono già tre ore Praticamente Che sto facendo E devo andare Se venivi prima C'era boss Ci facciamo due tre partite Pronto? Eccomi Però mi sa che questa Mo vediamo Vediamo un attimino Se finiamo questa partita Se Quanto ci mette Martinez Se no Facciamo una prossima Volta Non so se Domani Che è venerdì Boh Se magari ci sono Anche domani Ora di pranzo Si può fare Anche domani Eh si Stoi Stoi Da Tre Sora Assogando Tengo che Irmi ora Però Travesse Che Che a esta Ora Sto jugando Podemos Sugar Turutu Per esempio Ok Quando Domani Si 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 Magana Mi Vuoi Si Credo Che Si 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 Potemos Sare Magana Magana Però Un pochito Antes Desta Ora Io Mi Voglio Connecter Verso Le Le 13 Come si dice Le 13 Se venite Facciamo Loadout Ok Ok Andes Ti Creo Una Dos Oras Antes De Rispetto Ora Ciao Il Lancio E Alle 13 Alle 13 Esatto Alle 13 E C'è Uno Qua Regà Alla Stresse Alla Stresse E E E Dai Che È Successo Davvero Cascava Manco Quello Questo Può Stare Mega Però Stanno Dentro Uno Dos Tre Un Passito Adelante Maria Allora Ma stasera Se col team Sembra Sub Follower No Anche Con i Sub Posso Stare So Con Frost Bro Io Col Team Al Non Ci sto Più Bro Mannaggia I Francesi Z Si Ne Rindrà Eh No Casi Che 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 C'è So Bro 9,8 metri dice sotto un mostro qui in testa che parla a piano non c'è lo shop qua sono tornati ancora questi francesi ci sono un po' stilato ce l'avete qua vittato niente sta là sta là da rob bis bis attenzione perchè jim bong jim bong si fa la kill no dai non ce ne voglio crede l'MP40 ma sciolto ma dov'è non sta gioca pure io con una favola eh non male non male no chi me l'ha rubata eh capita peccato 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 si ritorna l'MP40 di pranzo che qui ci sono ancora 15 minuti da aspettare va bene dai domani domani allora domani che mi ricollego verso le 13 facciamo domani dai allora wow buonasera 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 parano devo salire the water prima prendo le munizioni però il giro saliamo tutti adriano che cose lascolti no 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 ma che che è successo e che è stato eccolo qua ho fatto anche l'altro c'è un altro però me ne pinga un altro due due eh no tre 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 me ne ha pingato un altro dovrebbe essere qua sotto nella galleria no nella galleria ci sono io eh allora se c'è lei nella galleria no però me lo veramente me l'aveva pingato eh boh non lo so forse è salito sopra vabbè vado a pushare questo qua la galleria come fa ta 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 eccolo c'era io l'ho fatto ah ok scende in altro scende in altro oh blocato ua faccio guazzo bra dov'è in chiacca oh c'ha trovato spesso guarda oh stavo a scaricare vaffan tu vaffan lupo ah c'è la perna lì lo serpentino signori 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 siamo a problemi tutto bene qua no capoccio no ok la scoteca no no si c'è gente c'è gente qua nella tua casa ancora i francesi niente signori panico e delirio il bello è che li ho mandati in panico gli ho sparato tutte e due non sapevano più che dovevano fa si non sapevano più di sparare più che altri no no ma il lancio penso sia un po' ancora imprendibile scivolo uno scivolo uno i francesi stanno occupando l'isolazione ancora francese guarda guarda quanti francesi che è il cascato ma lei ci sei cascato di nuovo ma in pratica in pratica mi dia a me i soldi che mi sacrifico io al massimo lei tenga pronta la siringa sono pronta uno due tre guarda dove andato no vabbè 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 problemi tecnici problemi tecnici non so come si è finito dall'altra parte però buon lancio troppa potenza vabbè a questo punto si scende alla control allora dobbiamo fare un lancio di bidet no vabbè oh oh ci sono cecchini ho un'idea per i cecchini non so se vi piace c'era però ho un'idea il pallone per il rischieramento per il rischieramento me lo porto si si porto uno uno qua no no chi t'ha fatto io mi sono andato a prendere il testo uno però c'era un altro non ti guardo Jim sta qua sta qua sta qua me l'ho portata l'ho confermato attendo Ducci c'è questa bomba là dentro arrivo arrivo con te oh chi è che spara ci sparano dobbiamo restarlo ciao non è vero non è vero è vero ma la Giuseppe buon pomeriggio rivoglio la gioconda fatala a prendere guarda che non va giù 4 abbiamo un problema dobbiamo salire noi da loro muovetevi alzate le chiappe tossiscono sopra Jim Assassin ti sento luco dai è nata chiprina così vede è nata morto fatto sul tetto l'ho notato non venire così spiaccicato ducci stanno dentro la casa grande stanno qua 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 non c'ho le viastre ci voglio bene che due palle nooo non va a terra io se non mi vio muoio nooo nooo peccato i francesi boom sono esploso così proprio peccato non vinto i francesi sta partita zio ma gioco di follower nooo io ho appena staccato da stamattina so giocare eh si fra sono due giorni che lo dico che avrei giocato con i follower ho fatto anche il post su facebook dove facevo l'estrazione per giocare con me eeeh lei muoviene mannaggia tutto mannaggia no ha cracciato ducci di nuovo va bene va bene l'immorteloro gran biscotto non lo so comunque ragazzuoli sono fatte le 4.08 io devo andare è stato un piacere anche per me ragazzi anche per me peccato abbiamo fatto solo una win peccato però va bene dai ci riproviamo la prossima volta alla prossima ragazzi ciao un bacione un bacione anche a voi una serata anche a voi ci becchiamo in live grazie va bene ciao ciao allora l'immorte di domenico l'immorte di domenico allora signori il viaggio della compagnia dell'anello eh niente tu ci sei cracciato vabbè io devo andare di nulla di nulla peccato sono arrivati i secondi qua il viaggio della compagnia di lupo bianco finisce qui per il momento taratatatara taratatatara ci ci ricolleghiamo stasera a che ora 9-9 e mezza come al solito secondo me più 9 e mezza che è 9 comunque 9-9 e mezza ci ricolleghiamo siamo di nuovo qui e andiamo andiamo c'è frost tramonto non c'è vediamo se c'è predator dopo chiedo se c'è predator sicuramente siamo io e frost e andiamo a spaccare un pochettino poi se c'è beps che era fatto anche il compleanno se c'è beps che deve fare la giornata che ieri non ha giocato vediamo un po' dagli ci becchiamo stasera ragazzuoli a più tardi ciao 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 domenico capoccio fai il bravo capoccione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti